Una cabina di regia che possa supportare e coadiuvare i dipartimenti regionali nella programmazione e nella spesa dei fondi del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ne ha annunciato oggi la Costituzione nel corso dell'incontro che si è svolto a Palazzo d'Orleanse con i dirigenti generali. Sarà presieduta dal Segretario Generale della Regione Maria Mattarella. Il PNRR, ha detto Schifani e i dirigenti, è un'opportunità straordinaria per lo sviluppo della Sicilia e non possiamo sprecarla. Tanto è già stato fatto ed è nostra intenzione continuare su questa strada. Con la collaborazione di tutti faremo tutto quanto nelle nostre possibilità e metteremo in campo ogni sforzo per superare le eventuali criticità che dovessero presentarsi, ha concluso il Governatore. Una notizia che viene accolta positivamente da Ance Sicilia, l'Associazione dei Costruttori Edili, che proprio lo scorso 26 ottobre aveva chiesto al Presidente della Regione Schifani, all'Assessorato delle Infrastrutture, di conoscere lo stato di progettazione delle opere pubbliche finanziate dal PNRR e dagli altri fondi europei. Adesso chiediamo un incontro urgente per mettere a disposizione le nostre conoscenze e competenze tecniche, al fine di contribuire alla rapida attuazione delle misure, anche partecipando alla cabina di regia che con ammirevole tempestività il Presidente Schifani ha deciso di costituire, almeno per una volta, conclude Ance Sicilia, faremo in modo tutti insieme che la Sicilia non sia l'ultima in questa irripetibile occasione dalla quale dipende la possibilità di riscatto dell'isola.